Ciao, sono Pino Severino del team CLG Bloise Motorsport, vi porto a fare un giro di qualifica con la mia Clio RSK. Siamo sul rettilineo di partenza dove cerchiamo di arrivare alla massima velocità in fondo con sesta piena, una staccata prima del tamburello, intorno ai 150, andiamo giù di tre marce, la faccio in terza, prendendo tutti in pieno i cordoli per aumentare la velocità, terza, quarta, quinta, poi stacco e metto giù alla terza, ancora in terza per arrivare alla Villeneuve, poi su in salita cerco di arrivare in terza al limitatore per andare giù con la seconda per fare la tose, prendo il primo cordolo, mi allargo per poter avere più strada, terza, quarta, prendo il cordolo, cerco di prendere il cordolo di destra, trovo per arrivare alla piratella dove scalo una marcia, prendo il cordolo in pieno prima di sinistra poi di destra, poi giù per le acque minerali, scalo una marcia, poi ancora un'altra, cerco di prendere prima l'interno e poi l'esterno, in quarta poi una staccata per fare la variante alta, cercando di prendere tutte e due la chicane, mi allargo per prendere un po' di velocità, prima, poi giù, terza, quarta, quinta, cerchiamo di fare in pieno prima di arrivare alla rivazza, mando giù due marce, me la prendo in terza, cerco di prendere il primo cordolo, il cordolo di destra e poi quello di sinistra per avere velocità per imboccare di nuovo il rottilino di perpenza. Ok, grazie, arrivederci da Primo Severino, alla prossima.